Parliamo ora di Piazza Marconi, che è diventata un po' la piazza della discordia, soprattutto per quanto detto da Antonio Bertoncello qualche giorno fa. Sentiamo la replica del Presidente della Commissione Provinciale dei Lavori Pubblici, Gianmarco Corliano. Antonio Bertoncello l'altro giorno aveva parlato di Piazza Marconi, sostenendo che quei soldi appartenevano alla giunta Zoggia. Immagino che Gianmarco Corliano, Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici Provinciale, non sia d'accordo. L'importante è che i lavori si facciano comunque, a prescindere da chi abbia licenziato questo denaro, o sbaglio? Certo, Padovano, sono perfettamente d'accordo con lei. A me piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e non il bicchiere mezzo vuoto, come ama fare invece Bertoncello in questo periodo. Evidentemente Bertoncello non ha trascorso un bel Natale, perché se lui fa riferimento alla questione di Piazza Marconi, noi non ci arroghiamo alcun merito nello specifico, ma ci arroghiamo il diritto dovere di informare i cittadini su tutte le attività della provincia di Venezia sul Comune di Portogruaro. Sembra quasi ovvio che un certo percorso di continuità con la giunta Zoggia voi lo dobbiate tenere? Per forza di cose, io sono personalmente impegnato con il commissario prefettizio, dottor Gulletta, e con i dirigenti del Comune di Portogruaro, a seguire da vicino tutte le questioni che riguardano i rapporti fra provincia di Venezia e Comune di Portogruaro. Per quanto riguarda invece le piste ciclabili, come abbiamo già avuto modo di dire in passato, esiste un atto di convenzione che è stato siglato fra provincia di Venezia e Regione Veneto. Questo atto di convenzione prevede che la realizzazione delle opere avvenga a cura di Veneto Strade, questo avverrà nel 2010, quindi è una notizia positiva. L'atto di convenzione è stato sottoscritto da poco fra l'assessore Emanuele Prataviera della provincia di Venezia e l'assessore Chisso della Regione Veneto, a novembre quindi. È una notizia positiva per la comunità di Lugugnana ed è una notizia positiva per i cittadini di Portogruaro. È un investimento di circa 2 milioni di euro e che vedrà come stazione appaltante Veneto Strade. Ma la progettazione esecutiva definitiva è stata curata dalla provincia di Venezia.